pronti per questo video parlerò con questo tono di voze accompagnando da questo brush in camera meraviglioso mettiti in una posizione comoda e ascolta Ciao 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 e poi voglio anche parlarvi un po' di come sto gestendo instagram di cosa troverete sul mio instagram e di nuovi format che sto portando prima però di cominciare con queste info con queste ghiattere voglio dirvi un po' cosa indosso cosa ho sorriso come correttore ho usato questa combo di parola beauty che ha gentilmente sponsorizzato questa piccola parte di video e uso il correttore nella colorazione light beige cool e il color corrector nella unica colorazione peach perchè appunto pesca adatto a correggere le occhiaie sul viola questo colore qui salmonato e io abbino, abbino, abbino questi due, metto due gocce di questo e uno di questi in mezzo e sfumo questo colore è adatto alla mia pelle che si sta pian piano abbronzando invece sulla mia pelle classica è più adatto a me il colore fair neutral qua sul sito di parola beauty c'è anche un quiz che aiuta a capire la colorazione di correttore cornet la matita per sopracciglia e anche questo pettinino qua mi trovo molto bene qua mi trovo molto bene che fa un tono splendido il mio colore è dark brown e questa si chiama shape me proprio la matita sopracciglia si chiama shape me shape me di questa poi sugli occhi ho utilizzato questa matita che mi piace tantissimo verde come eyeliner e anche all'interno superiore dell'occhio e vi faccio vedere il colore bene e questo è il tappino si vede bene dal tappino ed è si chiama trouble queen e il mascara invece è il mio preferito del loro sito si chiama volume up volume up 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 ed è è volumizzante e mi sembra anche bene comunque le ciglia non mi fa grumi vari non spava e infine sulle labbra ho utilizzato un 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 best seller di di parola beauty un classico che è il liquid lipstick caramelita che oggi mi piace particolarmente su di me e trovo che proprio come colore anche tenda a far sembrare le labbra più grandi e vi lascio anche un codice sconto che è smrmega che vi da il 50% di sconto su tutto con spesa massima di 59 euro e regalo un mascara vostra scelta del sito il mio preferito il volume up per info e sotto in descrizione trovate tutti i link ai prodotti nel sito e non sono abbigliati semplicemente sono fanno capire al sito che vi ho portati al brand che vi ho portati ma non sono abbigliati ma non perdiamo tempo perchè come al solito ho abitato ormai tipo 3 volte negli ultimi 2 mesi ho registrato un video intero senza premere rec quanto pare mi piace per divertimento girare video 2 volte vabbè ma passiamo subito alla novità perchè immagino spero almeno siate curiosi piccola parentesi so già che a lavare una notizia e un po' di persone si saranno lanciate a scrivere il commento oh mio dio si che bello no no ma anche se fosse non si chiede non si chiede mai mai senza nessuna eccezione non si chiede mai perchè come mi ha scritto una ragazza sul direct non sai che m vai a pestare non sai se vai a toccare un tasto dolente so che c'è curiosità ma se una persona vuole dirlo lo dice altrimenti è una cosa importante da sapere quando l'ho detto su instagram mi sono arrivate diverse testimonianze di persone che so ogni volta che le persone chiedono non mi piglio ma sei incinta magari non possono averli magari non li vogliono avere o per migliori motivi quindi non si chiede non si chiede non si chiede mai non si chiede non si chiede non si chiede anyway la novità è che spargo su una nuova piattaforma e cioè la dico sottovoce perché so che con youtube c'è un po' di un po' di competizione la chiameremo una piattaforma viola però la domanda penso che so già spontanea è intanto cos'è? è una piattaforma in cui il contenuto è live i contenuti sono live e possono esserci contenuti di diverso tipo chiacchiere discussioni su vari argomenti podcast gaming ma anche smr ed è una cosa che sta sviluppando di recente negli Stati Uniti soprattutto e la prima a fare smr che fa anche smr su youtube in Italia su questa piattaforma è Federica iniziando un paio di mesi fa penso Feili che saluto e lei mi ha un po' ispirato diciamo che era un po' un po' un po' un po' un po' che ci stavo pensando e non lo so la vera io sono convinta a provarci quindi è una piattaforma gratuita in cui il contenuto può essere un contenuto caricato è live e andrò live ogni mercoledì verso le 21.30 22 adesso vi accionerò bene sull'orario su instagram principalmente o direttamente sul sul sito in cui faccio le live ovviamente mi sono scordata di dirlo ma ovviamente le live sulla piattaforma sulla piattaforma viola saranno smr non è nascondato però saranno smr ovviamente adoro il presso in camera ma che bello riporto presto e ci si può anche abbonare i canali gratuitamente tra l'altro queste cose le ho scoperte raggiuntamente perché ci si può abbonare il canale tramite un abbonamento prime di amazon e quindi si vedo comunque è un po' complicata Twitch come piattaforma più la si frequenta più si capisce devo capirla in fondo a fondo anch'io ma quando ho annunciato questa cosa su instagram mi sono arrivate veramente delle reazioni super positive e mi hanno caricato tantissimo 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 persone che appunto usano letteralmente questa piattaforma e che non vedevano l'ora che sbarca così anche lì quindi veramente ho una curiosità e una voglia stasera di 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 fare questo di fare questa live incredibile non vedo letteralmente l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora e per me stasera per voi sarà ieri sera quindi siete curiosi vi lascio il link qui sotto e magari anche solo per andare a vedere com'è andata la live ieri sera però l'ho detto solo su instagram perchè la prima live che faccio io in assoluto è una prova quindi volevo che ci fosse un po' meno gente però siete assolutamente benvenuti così avremo tre appuntamenti se ti lunedì qui mercoledì lì e giovedì qui spero spero vi piaccia vi faccia piacere insomma vediamo come va e veramente sono super contenta super carica di essermi decisa finalmente a farlo perchè era veramente tanto che ero indecisa e giustamente la vedo la vedo già che lo state facendo me lo state già chiedendo ma chiara ma chiara perchè 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 non fai live su youtube vi ho visti vi vedo vi vedo vi vedo la domanda succederebbe spontanea anche a me onestamente e la risposta è un po' complicata un po' elaborata e adesso però cercherò di spiegarvi tutto sto anche per fare due chiacchiere le risposte sono i motivi sono due principalmente il primo motivo quello un po' più penale diciamo così un po' più anche banale è quello che penso mi faccia bene faccia bene al canale faccia bene al mio personaggio sparcare su un'altra piattaforma quindi espandermi su un'altra piattaforma io come forse avete notato non sono su tweet no non sono su tiktok non sono su clip house non sono su tantissimi social soprattutto quello un po' più evidente è tiktok perchè non non sono la persona che usa un social se non le piace non 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 mi piace tiktok magari cambierò idea bella molto il cielo una di più facile ma non mi piace e e non 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 sono disposta solo per guadagni extra a sparcare su una piattaforma che non mi piace e e invece questa piattaforma viola mi piace mi ispira tanto e quindi non vedo l'ora quindi non è non è solo per espandermi proprio nel senso voglio essere dappertutto perchè altrimenti sarei bene in altre cose anche però e perchè appunto mi piacerebbe creare un contenuto anche diverso e appunto trovare anche nuovo nuovo pubblico un pubblico a cui magari mi piace un contenuto live piuttosto che un contenuto pre-registrato perchè no e ho dato alcuni piacciono entrambi e scusate faccio un po' di misplaging e quindi il primo motivo è semplicemente questo quello che mi permette di farmi conoscere un pubblico più ampio e permette anche l'SMR permette di far conoscere di farsi conoscere un pubblico più ampio in Italia secondo motivo ed è quello un po' più personale e che ero indecisa a sedire onestamente però sento che è giunto l'ora di parlarne dopo un anno e se qualcuno non sa a cosa mi riferisco bene cioè bene basta fine stop voglio chiudere l'argomento con questa cosa e basta quindi per chi non avesse visto una live di un anno fa particolare cioè bene così non avessi persi nulla in ogni caso un anno fa ho fatto la mia ultima live ASMR doveva essere secondo me aprile e live su youtube premessa io le live le ho sempre considerate su youtube un uno svago un modo per rilassarmi e per avere un contatto più diretto con chi mi segue per avere due chiacchiere in cui uscivo un po' anche dal mio modo per farmi conoscere meglio un modo per esprimere anche altre parti di me ecco e insomma non non erano live per far addormentare ecco non erano contenuti ASMR come questo e quindi le ho sempre viste così molto 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 tranquille e cosa è successo? in quel periodo d'aprile vabbè eravamo in lockdown quindi già tutte le persone erano le avevano già fin qui tutte le persone avevano già veramente fin qui un po' sull'orlo arrivi eccetera quindi già era tutto così noi infammo anche io e le ragazze infammo anche appena decidi di rimandare il matrimonio di un anno quindi quella cosa un po' mi dava molto da fare devo dire perchè era proprio una una decisione molto molto recente e cioè a me servevano anche per appunto anche per compagnia così e questa è una cosa in comune con tutte le live smr devo dire con tutte le live di youtube secondo me devo dire infatti non vedete tanta gente che fa live su youtube ragazzi cioè diciamoci l'onestamente quanta gente vedete? e perchè? una cosa comune nel live di youtube è che la chat sia intasata intasata di mi saluti 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 veramente il 50% della chat è intasata da questi messaggi quindi dopo vi spiego anche vi dico un po' anche il secondo me il perchè di questa cosa però sta di fatto che è così e non so se l'avete mai notato ma io non saluto mai e c'è un motivo io odio i saluti sia perchè non riesco a tenerci dietro non mi ricordo di salutare e proprio riceverei anche a questo punto troppe 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 richieste sicuramente qualcuno non me lo appunterei bene ma soprattutto li odio perchè li trovo noiosissimi quando negli altri negli altri canali sento la parte dei saluti io la salto ma vi giuro che non riesco ad ascoltare 30 secondi mi annoio troppo 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 mi annoio tantissimo mi dispiace e se una cosa non mi piace non vedo perchè la dovrei portare sul mio canale e ho fatto una cosa che veramente è proprio una versione incredibile e quindi immaginatevi questa live in cui cioè tutta la ciotera mi saluti mi saluti mi saluti io tipo e e quindi già lì mi faceva un po' salire nervoso la cosa e me l'ha sempre fatto salire questa cosa in ogni live di youtube e poi in ogni live di youtube vengono fatte sempre le stesse 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 domande tipo come hai scoperto l'smr quanti anni hai dove vivi sei mai stata oltre 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 sei mai stata al ghero sei mai stata in vale d'aosto e queste domande non non sono argomenti non portano a parte che ho già risposto alle domande più frequenti e trovate qui sotto il video è sempre stato in descrizione sempre il video che in risposta alle domande che vi fate e comunque diventa un po' risposta non lo so le live secondo me sono fatte per permettere all'utente nella chat di contribuire al video quindi stiamo parlando per dirvi se questo fosse una live leggerei tutti i vostri commenti di cosa ne pensate riguardo nella chat e quindi magari rispondere a questi commenti inerente a questo argomento le lecce a diet non funziona così non non lo so perché e questa cosa vi giuro che quel giorno mi ha fatto innervosire più di cioè più di solito ricevo un minimo a gestire questa volta proprio no e vi giuro mi avrò risposto tipo un po' più scavolata con non saluto ho già risposto a questa domanda o cose del genere e ragazzi quella live non c'è più perché ho ricevuto tante di quei commenti brutti sotto quel video che ci sono stata malissimo 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 e vi giuro cioè che a me vengano a dire che io non do attenzione che io devo qualcosa alle persone quindi se una persona mi chiede di salutarla io la devo salutare cioè io vi giuro posso ora ogni giorno rispondere ai direct e ne sono felicissima o semplicemente cioè mi fa piacere creare conversazioni costruttive con un senso con le persone e basta non è che non do attenzione mi piace dare un'attenzione più sensata e più costruttiva per tutte e due non so se si capisca il mio ragionamento e sotto quella live vi giuro ecco si è rivelata la vera Chiara arrogante che se la tira sei cambiata di tutto di tutto vi giuro ci sono rimasta veramente e fun fact c'è ancora una persona io vi giuro c'è una persona che ancora oggi ancora oggi dopo un anno ragazzi commenta sotto alcuni commenti che mi fanno dei complimenti dico Chiara come sei dolce così con ah ma se tu avessi visto quella live di un anno fa in cui si è rivelata la vera Chiara io ok tutto ciò per dirvi che uno una persona più sfaccettatore e non è che se io non è che se una cosa mi fa nervosire vuol dire che io sia sempre così cioè se una cosa mi fa nervosire vuol dire che voi siete sempre nervosi no boh io boh veramente e quindi mi ha molto perito il fatto che ci fossero veramente così tanti insulti sotto perché io avevo risposto scavolata certe domande per l'amor del cielo è brutto sicuramente però forse lo si può anche capire e anche dire vabbè può capitare e cioè no ragazzi c'è proprio sentenze in carcere via buttate la chiave e e quindi lì proprio mai più mai 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 più mai più è stato bruttissimo e quindi mi sono mi sono data la la motivazione del perché le live su youtube non vadano e del perché diciamo gli utenti di youtube medi non sappiano gestire una live cioè contribuire a una live e perché la piattaforma di youtube non è pensata per le live l'utente non è abituato alle live ed è abituato a comunicare come se fosse un video registrato con delle richieste come se fossero richieste per un video successivo solo che è in live e quindi è molto diverso invece sulla piattaforma viola le persone sono abituate a questo format apprezzano questo format vanno lì per questo format e quindi vero magari non sono portata per le live e lo scopriremo e magari questo per l'amore del cielo magari non è il mio genere non è il mio stile però penso che si creeranno delle insomma e si ha un un contesto in cui fare live è molto più facile e viene aiutato proprio anche dalla chat quindi questi sono i motivi finalmente ne ho anche parlato in un video perché vi giuro che ogni volta che leggo i commenti di una persona che mi insultava sotto i complimenti che mi facevano altri mi veniva mi saliva proprio la rabbia la rabbia la rabbia quindi ne ho parlato e basta e io spero di non risultare anche arrogante in questo video però mi dispiace molto che diciamo non si possano fare errori sempre ma essere sempre perfetti su queste su internet che se no c'è pronto c'è pronto c'è pronto a puntarti il dito e dire tu hai sbagliato devi pagarla perché nella vita reale sbagliamo ogni giorno sbagliamo ogni giorno quindi io sono una persona normale con pregi e difetti amo fare questi video e io sono anche questa io sono me stessa al cento per cento adesso ma non vuol dire che io non fare le voce normale cioè e quindi sì questa è una cosa secondo me importante da dire da sottolineare e mi sono anche tolto un peso adesso che che ne ho parlato ecco quindi ok il secondo argomento che adesso stringerò un pochino di cui volevo parlare oggi è instagram raccontarvi un po' delle perché di dirmi e che nuovi format sto portando su instagram mi trovate come chiara.smr e non so dove cominciare allora intanto eh vi aggiorno tantissimo cioè su nuovi video su ogni pomeriggio lunedì pomeriggio giovedì pomeriggio vi metto l'anteprima del del video che ci era la sera vi azzonno se un video è in ritardo che ultimamente è sempre in ritardo perdonatemi di almeno un'ora non so perché e cioè lo so perché e quindi sì ci sono le anteprime vi dico un po' di me vi toglie degli spoiler del del setup di tutto vi tengo partecipi magari a volte vi faccio anche scegliere i video o proporre nuove idee sono molto molto attiva nel rispondere ai messaggi mi piace parlare con voi e sentire la vostra e conoscervi meglio perché è importante insomma e mi fa veramente anche proprio ricevere anche i vostri consigli in fatto di qualunque cosa è veramente veramente bello sapere che ci sono delle persone che che utilizzano anche del tempo per vedere come stai vedere come è la tua vita e tardi magari anche dei consigli aiutarti quindi è bellissimo per me e cerco di rispondere il più possibile finché i miei occhi proprio dicono basta chiaro ovviamente durante tutto il corso della giornata e non solo in una traccia e il martedì come appuntamento c'è il suggerire un nuovo canale smr italiano ieri se ieri ad esempio oggi mercoledì per me sarà giovedì per voi comunque martedì ho suggerito un canale che mi piace tantissimo di una ragazza che si chiama Chiara come me e il canale si chiama Shanti smr io è bravissima ha una qualità altissima fa video molto lunghi cosa che tipo i miei cosa che è molto rara ve lo assicuro ed è molto impegnativa ha dei contenuti originali ma interessanti e non lo so abbia tantissimo ha una dialettica incredibile che trasmette serenità educazione è veramente un canale che consiglio e appunto questa settimana ho consigliato il suo canale però ho intenzione tutte le settimane per martedì di consigliare sotto anche il vostro suggerimento dei canali smr italiani che secondo me meritano più più visibilità di quanto hanno molto più molto più più visibilità molto più visibilità e altro appuntamento al venerdì da un po' di settimane c'è il venerdì il venerdiquiz è un quiz in cui vi metto la risposta multipla sotto su curiosità o fanpacks o aneddoti o cose sulle sull'smr sul benessere sul sonno su queste cose qui insomma cose che riguardano comunque questo canale questo argomento e una cosa super carina che su cui ho fatto una domanda la scorsa settimana era quanto tempo dormono le formiche al giorno le risposte erano da tre ore quattro cinque ore mi ricordo otto nove ore dieci dodici provate a rispondere se volete siete arrivati fin qui comunque la risposta è quattro cinque ore ma non è questa la vera cosa carina la cosa carina è la curiosità è che loro suddividono queste quattro cinque ore in circa duecentocinquanta pisolini da un minuto cioè come se la mia stima per le formiche non potesse mai aumentare ma che carina cioè che carina assurdo infatti vivono anche pochi mesi probabilmente è un sedito un po' stressante e e e quindi cioè è un po' carino e insomma ci sono anche queste del genere o altre cose proprio sull'smr e dopo spiego la risposta alla domanda è un appuntamento che mi piace tantissimo e che appunta le persone che mi seguono su instagram mi sta piacendo tanto quindi ne sono super contenta e nulla inoltre mi sono anche eh sulle live a questo punto anche su e e siamo anche 97mila su instagram e sarebbe troppo bella arrivare a 100mila quindi sì inoltre cerco ovviamente di fare tante storie rilassanti per rilassarvi anche nel vostro quotidiano quando non avete tempo di vedervi un intero video di youtube questo ovviamente era scontato bene io sotto so che ho avuto a dirvi che ve l'ho detto vi ho riempito di informazioni poverini già sto giusto per rilassarvi proprio prima andando a farlo via quando vi dico togli i pensieri che ci sono i pensieri di oggi sorry sorry e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'orenti abbassar le luci e augurarvi, augurarti, augurare a te una buona, 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 buona notte buona notte, soñetoro good night, sweet dreams good, good, good night, sweet dreams buona notte, buona notte dulces sueños dulces sueños bon nuit buon nuit vete joye 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 ereve di tenere la zona e a di spera